A Montesilvano altro giorno di lavoro per il Pescara in vista del posticipo di lunedì sera contro la Virtus Entella. In settimana è cambiata la classifica perché la Juventus Under 23 ha raggiunto il Pescara al sesto posto. I Biancazzurri sono lontani sei punti dal quinto posto del Gubbio, sei punti che diventano sette in virtù dello scontro diretto sfavorevole contro l'undici di Braglia. Ma da lunedì sera vietato fallire per i Biancazzurri soprattutto per dare continuità agli ottimi progressi sul piano del gioco visti con il tecnico Emanuele Cascione. Ci andiamo ad ascoltare le parole del terzino Lorenzo Milani. Milani c'è il posticipo di lunedì con la Virtus Entella per confermare i progressi fatti con Cascione? Sicuramente, noi anche la scorsa partita abbiamo cercato di compattarci come lui ci chiede. Fino all'ultimo eravamo riusciti quasi a strappare un punto in casa di loro, però peccato per il finale. Ora speriamo di continuare a essere quelli che siamo in queste due partite. Ti chiedo solo una cosa della partita di Cesena. Che ti è mancato per arrivare su Pierozzi? Lui in quell'azione è stato molto bravo, è riuscito a spingermi poco prima che il pallone gli arrivasse. Poi il pallone è caduto proprio sulla sua testa e è stato bravo lui. Quindi doveva fischiare l'arbitro? No, vabbè, sono azioni di gioco. Lui, come ti ho detto, è stato bravo, è riuscito a prendersi quel passo in più. Poi magari la sua freschezza in più della mia che è riuscito a saltarmi sopra. Io non sono riuscito magari a essere lì proprio a contatto e quindi ha fatto gol. Gli equilibri dati da Cascione. Per Rieda Cascione, ripartiamo dalla partita con il Ponte d'Era perché tu sei stato il protagonista del gol dell'1-0 con il taglio alle spalle della difesa che era il classico zemaniano. Dall'altro lato, fase difensiva un Pescara sicuramente diverso. Ci spieghi un po' questo equilibrio? No, assolutamente. Il mister quando è arrivato ha subito messo le mani sulla difesa principalmente perché era il problema che ci stava affliggendo in questo periodo. A livello offensivo poco ha lavorato nelle prime settimane perché comunque sia avevamo già un grosso bagaglio alle nostre spalle quindi un po' delle cose che ci ha insegnato il mister ci sono rimaste e ci siamo concentrati sulla difesa. L'ultima, guardando la classifica, la Juventus under 23 vi ha raggiunto al sesto posto il Gubbio non dico che è difficilissimo ma quasi andarlo a prendere quale deve essere l'obiettivo da qui alla fine? L'obiettivo è cercare di fare il nostro meglio cercare di portare a casa più punti possibile e prepararci al meglio per il futuro.